ciao ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video da un po che non ci si sente il video del venerdì è stato spostato alla domenica per ho avuto moltissimo da fare non ho avuto veramente tempo di registrare il video però ce l'ho fatta anche se di domenica sono presente lo sto registrando di domenica vediamo quando riuscirò ad editarlo e a metterlo online allora dicevo il video consueto delle lidl della silvercrest di un prodotto che troveremo giovedì appunto a lidl ed è questo robottino da cucina che veramente è un tocca sana è utilissimo fa mille cose è veramente veramente indispensabile in cucina per quanto riguarda noi donne perché ci dà una mano perché veramente è completo nel senso che ci aiuta a fare moltissime cose in cucina quindi per noi donne insomma che lavoriamo siamo sempre impegnate è veramente un'ottima un'ottima mano appunto sto parlando di questo robottino metto naturalmente i miei occhiali così vado a leggervi tutta la descrizione tutto ciò per quanto riguarda appunto questo robottino ed abbiamo questo robot da cucina multifunzionale monsier cuisine connect appunto a lidl il 5 settembre quindi giovedì ad un prezzo di 359 euro ed è un robottino veramente utile io ce l'ho in un'altra marca perché mi è stato regalato io quello imetec però sono molto molto simili per quanto riguarda questo robot da cucina appunto della silvercrest e questo monsier cuisine è abbastanza simile al bimbi ovvio che il bimbi costa 1300 euro per cui insomma qualcosina in più ci sarà normale voglio dire non perché una cosa costa di più è più buona però qui c'è un prezzo c'è un abisso tra l'uno e l'altro però ho sentito delle buone recensioni ed è quasi simile appunto al bimbi tranne forse o per i materiali qualche programma in più giustamente perché c'è un differenza di prezzo abissale appunto la troviamo a 359 euro sempre della silvercrest e sempre con tre anni di garanzia che non è male come vi ripeto tutte le volte che vi parlo dei prodotti lidl in quanto potete provare il prodotto per 15 giorni poi se non vi piace oppure non vi siete trovate bene con il prodotto la lidl o sostituisce magari se ha avuto qualche qualcosa che non va o si è rotto ve lo può sostituire o ancor meglio se non vi piace proprio che nell'utilizzo non vi ci trovate la lidl vi vai vi dà il reso e vi dà i soldi per cui insomma questa è una cosa in più è una garanzia appunto che vi dà la silvercrest in più vi dà la garanzia di tre anni in questi tre anni qualsiasi cosa succeda a questo robot la silvercrest vi verrà incontro diciamo in tutte le sfaccettature che riguardano appunto la garanzia allora andiamo naturalmente a leggere la descrizione di questo prodotto allora a un timer da 99 minuti poi a una temperatura regolabile che va dai 37 gradi ai 130 gradi abbiamo 800 watt di funzione per quanto riguarda il mixer e poi abbiamo la funzione cottura che mille watt poi abbiamo incluso anche il ricettario e anche l'applicazione appunto da scaricare nei vari per chi ha iphone oppure per chi ha samsung appunto nei vari store un'applicazione che si scarica e lì troverete tutte le ricette e tutto i tempi di cottura eccetera eccetera allora questo appunto questo robottino io lo chiamo così però è piccolo ma è grande perché fa tante cose in realtà appunto serve per cucinare per cuocere al vapore per impastare per frullare mescolare sminuzzare ridurre a purea emulsionare tritare il ghiaccio e la cosa importante che io nel mio robottino non ho anche la bilancia per pesare i prodotti che poi andate a cucinare per cui è una cosa in più perché quando si utilizzano questi prodotti naturalmente quando uno cucina ci vuole sempre gli ingredienti misurati per quanto riguarda appunto seguire il ricettario per cui bisogna sempre pesare tutti quanti gli ingredienti invece qui già incorporato quindi facilita di più la situazione allora appunto a un download gratuito di ricette aggiornamenti automatici tramite appunto l'attivazione di un account voi quando andate a comprare questo robot troverete nella scatola anche tutte le indicazioni per crearvi questo account e tramite appunto tramite cellulare così potete avere le ricette appunto sempre online e nel vostro cellulare per cui molto molto innovativo ecco appunto ha un touch screen molto facile da utilizzare ha un display a colori per cui insomma di tutto e di più e ci sono 100 ricette preinstallate con istruzioni dettagliate per cui chi più ne ha più ne mette appunto vi dicevo alla bilancia integrata e nella scatola contiene tutti gli accessori fondamentali per farlo funzionare appunto all'inserto di cottura il coperchio con apertura di inserimento naturalmente se vi siete dimenticate qualche ingrediente oppure dove dovete aggiungere del sale qualsiasi altra cosa c'è questa apertura appunto tramite il tappo che si trova appunto nella parte superiore potete aggiungere questi ingredienti c'è un misurino poi c'è l'inserto per cottura al vapore con coperchio ed inserto di cottura c'è il piatto c'è la spatola c'è un inserto per mescolare inserto lama e un contenitore mixer in acciaio da 4,5 litri con una capacità massima di 3 litri per cui tutto questo raccolto in un robot che non è è grandissimo è un robot anche bello da mettere sulla cucina perché è tutto d'acciaio è bianco per cui anche proprio come estetica è molto carino questo prodotto a Lidl esce due tre volte l'anno se non di più perché è un prodotto che va moltissimo tante di voi lo aspettano sempre io vedo anche tramite tanti gruppi della Lidl che tutti voi domandate sempre quando c'è l'uscita nuova appunto di questo robot perché ne siete incuriosite e giustamente cerchiamo sempre qualcosa che ci dia una mano allora questo robot che cosa fa fa di tutto praticamente fa dei risotti buonissimi io ad esempio con il mio ci faccio molto spesso e volentieri il purè viene un purè che è una meraviglia tant'è vero che c'è anche il video dimostrazione del cucose ve lo andate a vedere appunto come preparare il purè il mio è della imete che però sono veramente simili anzi questo della silver quest e mi sembra che sia anche più elevato come proprio qualità di prodotto rispetto a quello della cucco imetec ci potete fare di tutto questo poi trita grattugia è veramente utilizzare questo al posto di tanti altri pentole tegame insomma che veramente ci danno semplicemente fanno più casino in cucina tutti questi attrezzi invece lì basta usarne uno ed è veramente comodo comodissimo ve lo ricordo è giovedì 5 settembre a Lidl a 359 euro della silver quest e quindi per chi fosse interessato naturalmente andate presto perché questi prodotti che sono molto molto richiesti poi se ci si va tardi a Lidl non si trovano più poi voglio fare un piccolo preambolo che non c'entra nulla anzi c'entra con il discorso della Lidl in realtà io volevo ringraziarvi tutte quante perché in realtà mi lasciate sempre commenti molto carini sotto i video mi fa piacere anche quando le persone mi chiedono dei consigli per quanto riguarda questi prodotti Lidl io sono sempre qui pronta a rispondervi naturalmente magari non vedo subito il messaggio però quando mi scrivete io rispondo ben volentieri e veramente sono felice di farlo però poi c'è qualcuno che magari non lo so forse non ha nulla da fare allora scrive delle cose che sono poco chiare ma comunque io sono riuscita ad interpretarle qualcuno di voi mi ha scritto praticamente facendo una specie di battuta come mai faccio video con prodotti che non ho in mano allora io credo che sia fondamentale importante capire questa cosa cioè io non posso fare video tutte le settimane acquistando dei prodotti Lidl cioè adesso io ad esempio sto facendo la recensione di questo prodotto che costa 359 euro cioè io non posso andare acquistare un prodotto che ho in un'altra marca quindi non posso fare la recensione di un prodotto Lidl e poi vi mostro il mio che è di un'altra marca insomma sarebbe un controsenso di quelli mai visti per cui io penso che le persone prima di parlare dovrebbero accendere un attimino il cervello attaccare la spina e poi parlare perché altrimenti si dicono bagianate a go go non posso di certo fare recensione sui prodotti tutte le settimane acquistando dei prodotti avere il prodotto fisico qui in mano non si può questo si può fare con le creme si può fare con altre cose con dei prezzi blandi perché questa persona che mi ha scritto mi ha scritto sotto al video del robot quello per spolverare in terra quindi io anche quello ce l'ho di un'altra marca mi è stato regalato in un compleanno quindi voglio dire non si può pretendere questo perché sarebbe veramente l'assurdo questa è una tantum e giustamente è una persona che non lo so non aveva nulla da fare mi ha scritto sotto al video questa cosa però è una cosa assurda ecco ci sarà poi qualche prodotto visibile che io acquisterò perché mi serve perché giustamente non vado a comprare i prodotti per fare i video questo lo sapete insomma è un discorso vecchio è inutile che non riprendiamo perché non serve a nessuno però ecco voglio dire voglio fare questa precisazione che i prodotti che io recensisco sono prodotti che non ho in mano qualche volta se mi serviranno qualche prodotto ve la farò dal vivo con il prodotto fisico detto questo vi ricordo di questo monsieur cuisine della silvercrest naturalmente giovedì a correte numerosi così troverete il vostro robottino ve lo porterete a casa che è un bel bottino ve lo posso garantire e ve lo consiglio perché usando questi robot non si sporcano i fornelli non si sporca nulla la cucina sempre pulita e poi viene una cucina buona perché si possono fare dei prodotti anche ad esempio le verdure al vapore dei prodotti abbastanza leggeri anche perché fa diete deve seguire delle diete si possono fare delle cose veramente grandissime con questo robot detto questo io vi rimando al prossimo video naturalmente vi ringrazio che vi state iscrivendo sempre di più sempre di più siamo sempre di più anche su instagram e questo vi fa piacere anzi seguitemi anche lì con le varie stories siamo sempre più presenti entrambi e che dirvi cliccate anche la campanellina così non vi perderete mai nessun video che sarà online e noi ci vediamo la settimana prossima vi mando un bacio ciao